Ciao a tutti, bentornati su Un Come! In questo nuovo tutorial ti insegneremo come fare la ruota passo per passo. Il primo passo è mettersi con la schiena dritta e le braccia in alto. Successivamente spingiamo con la gamba appoggiata e aiutandoci con la gamba in alto. Terzo passo, restiamo in verticale ma di lato. Ripetiamo i passi lentamente. Passo 1, passo 2, passo 3 e chiudiamo. L'ultimo passo consiste nel tornare nella posizione iniziale. Uno dei principali consigli che ti diamo è quello di imparare a fare la verticale prima di fare la ruota. Sarà più semplice. Un altro consiglio sarà la prima volta che provi a fare la ruota. Prendi dei punti di riferimento per terra, ovvero dove appoggerai la prima mano, l'altra mano, il primo piede, l'altro piede. Sapendo dove deve andare ciascuna parte del corpo, sarà più facile capire come procedere. Speriamo vi sia piaciuto il tutorial. Se volete imparare a fare altre acrobazie, iscrivetevi al canale di Uncome. Alla prossima!